Si parla tanto di quanto è importante lavorare al proprio personal branding e una domanda sorge spesso spontanea fra imprenditrici digitali di varie nicchie e settori. Ma devo per forza metterci la faccia anche se non mi va? In fin dei conti il mondo è pieno di brand che sono cresciuti grazie al volto di un fondatore carismatico, sempre pronto a esporsi, sempre in prima linea. E non è difficile intuirne il motivo. Le persone vogliono soprattutto online, vogliono sapere chi c'è dietro un prodotto o un servizio, anche offline, ma offline diciamo che è più immediato, quasi naturale conoscere chi c'è dietro. Online è molto più, come dire, è molto più indiretta questa conoscenza e quindi chi arriva, soprattutto chi arriva e non ci conosce, vuole sapere chi siamo, chi siamo per effettivamente essere qualcuno di cui ci si può fidare. Ora se da un lato non esporsi del tutto, a mio avviso perlomeno non è un'opzione, perlomeno nel mondo digitale. Dall'altro è possibile trovare un equilibrio sostenibile per chi è particolarmente introversa, quindi ama lavorare instancabilmente dietro le quinte, ma lì vuole anche restare. In questa nuova puntata di Impact Girl condivido con te quattro spunti pratici per riuscire a coltivare il tuo personal brand senza sentirti a disagio e senza compromettere quella che è la tua natura introversa. Prima però mi raccomando, se stai guardando questo video da YouTube ricorda di iscriverti al canale per ricevere una notifica ogni volta che c'è una nuova puntata e anche lasciarmi un commento sotto al video per dirmi che cosa ne pensi di questa puntata una volta che il video sarà concluso. Lo stesso se stai ascoltando questo podcast a una piattaforma preferita che sia iTunes, Spotify, che sia Spreaker, lasciami una recensione e raccontami che cosa ti è utile, ti sarà stata utile di questa puntata. Quindi partiamo dal primo spunto per provare a coltivare il proprio personal brand senza metterci necessariamente la faccia. Il primo spunto è non tradire le tue inclinazioni, cioè i contenuti, sappiamo, online sono il tuo biglietto da visita più importante, sono di fatto la tua valuta in un certo senso, il mezzo attraverso cui riesci a guadagnarti anche e riesci ad ottenere quella che è la fiducia di chi ti segue. Perché? Perché attraverso i contenuti qualcuno che non ti ha mai sentito nominare ti scopre, ti apprezza, ti conosce e comincia a fidarsi di te e della tua autorevolezza. Però se parlare a video, se fare reels su Instagram ti mette incredibilmente a disagio, non parlare, scrivi, te. Utilizza invece del canale YouTube, utilizza il tuo blog. Invece di utilizzare dei reels o delle foto tue, utilizza delle foto del tuo prodotto, delle foto che rappresentano quello che vuoi dire ma che non sono necessariamente foto di te. Ogni tanto fatti vedere, ma non deve diventare una costante perché se questa costante ti mette a disagio, in realtà ha soltanto un effetto controproducente sul tuo entusiasmo e la tua voglia di procedere. Il fatto che i video siano la moda del momento non significa che questa moda vada seguita per forza. Tra l'altro adesso stanno prendendo piede moltissimo anche le versioni audio, non soltanto i podcast ma anche le versioni audio dei social network. Ad esempio su Facebook ci sono adesso le audio rooms ma anche Twitter ha iniziato questa nuova modalità. Quindi fai leva su quello che effettivamente esiste là fuori per poterti tenere fedele alle tue inclinazioni e allo stesso tempo farti conoscere. Piuttosto che seguire una moda, segui quello che ti fa stare bene e che ti aiuta a mantenerti costante. Ti faccio un esempio di un imprenditore introverso di grande successo. Non so se amerebbe sapere che sto facendo questo esempio però perché lui è molto introverso e molto timido. Si chiama André Shaperon, è un copywriter di fama mondiale che ho la fortuna di poter conoscere personalmente e André detesta farsi intervistare o registrarsi a video. Non gli piace, tra l'altro lui è un copywriter quindi ovviamente quello che ama fare è scrivere. Ecco lui ha fatto del suo punto di forza la scrittura naturalmente e anche il mezzo preferito per comunicare con la propria audience. Quando scrive le sue email, quando scrive i suoi blog post, ti porta dentro questo mondo che ti sembra di vivere come se stessi guardando un film, un po' come quando leggi un libro ed entri proprio nella storia come se stessi guardando un film o addirittura meglio del film. Condivido questo esempio proprio perché voglio dimostrarti che è possibile raggiungere il successo attraverso il proprio brand e farsi conoscere a livello planetario senza necessariamente doverci mettere la faccia. Il secondo spunto che ti condivido oggi è quello di presentarti con leggerezza, ok? Spesso quando dobbiamo creare una pagina su di noi, una delle preoccupazioni più frequenti di chi è dentro la membership di Biz Academy, che nomino spesso in queste puntate perché conosco quelle che sono le loro sfide in prima persona e quindi posso naturalmente riportarle, è il fatto di dover scegliere questa benedetta foto, quante foto devo mettere, ma posso farla che i capelli mi coprono un po' il viso eccetera eccetera. Ecco, se una foto di noi ci mette un po' a disagio possiamo o farci fare una foto mentre stiamo lavorando, quindi mentre siamo proprio nel flusso del nostro lavoro e quindi magari abbiamo anche uno sguardo concentrato, ma preso da quello che stiamo facendo, oppure puoi giocarla, puoi buttarla un po' a sorridere, puoi cartonizzare la tua foto, oppure fare una sorta di sketch se proprio non ti va di mettere la tua foto vera e propria, anzi quello può diventare addirittura un elemento caratteristico del tuo sito ad esempio e puoi utilizzarlo anche per raccontare, per descrivere i profili di chi lavora con te, quindi senza necessariamente riempire la pagina di foto se questa cosa non ti fa sentire a tuo agio. Ancora una volta non compromettere quella che è la tua inclinazione, ma trasformarla in un punto di forza per diventare ancora più unica, per far sì che il tuo personal brand possa essere ancora ancora più unico. Il terzo e penultimo spunto è quello di farti vedere senza mostrarti. Un po' l'abbiamo anticipato nel punto 1, ma sui social puoi far vedere qualche piccolo momento del tuo dietro le quinte, ma senza farti vedere, quindi fai vedere la tua scrivania piena di strumenti di lavoro, le tue mani in primo piano che lavorano, gli strumenti del mestiere, non sentirti in obbligo naturalmente di farlo in ogni post, però sappi che c'è questa possibilità, quindi farti vedere senza farti vedere. Se fai formazione puoi ad esempio utilizzare delle frasi, delle grafiche a carosello che riempiono di valore chi ti segue e contribuiscono quindi a offrire una certa credibilità anche senza mettersi a fare mille selfie o video o foto. Quindi lascia che sia il tuo contenuto ad essere la faccia del tuo business. Ci sono dei profili Instagram di vario tipo, in varie lingue, in vari settori che sono esplosi semplicemente attraverso i caroselli, quindi queste immagini una di seguito all'altra come delle slide che offrono semplicemente degli spunti pratici. Io personalmente li adoro, li utilizzo molto nel mio profilo ma ci sono account che hanno fatto di questo il loro punto di forza. Uno non sa chi c'è dietro l'account se non per la foto profilo oppure se va sul sito web e capisce naturalmente di chi si tratta o ogni tanto c'è qualche foto qui e lì, ma di fatto i caroselli sono uno strumento social potentissimo per creare contenuti senza metterci la faccia. Spunto numero 4 ricorda che un approccio non esclude l'altro. Ti faccio un esempio dalla mia esperienza. Prendi il portale di Omnama sui social ma anche come sito web. Per molto tempo mi sono esposta in prima persona, in prima linea, poi quando però ha cominciato a crescere come brand ha anche acquisito una sua identità sempre più forte, sempre più individuale che mi ha permesso di fare un passo indietro lasciando che continuasse a crescere in autonomia. Quindi il tuo progetto è un po' come un bambino, all'inizio ha bisogno di cure costanti poi piano piano cresce e manifesta una sua personalità sempre più individuale. Ecco che allora quello che puoi fare è all'inizio provare a metterci un pochino di più la faccia perché ancora non ti conosce nessuno, perché ecco quando arrivi come new entry in una nicchia e ci sta che le persone vogliano capire ma insomma chi è questa persona? Posso fidarmi? Non posso fidarmi? Dove vado a recuperare? Qual è la sua storia e perché fa quello che fa? Poi ad un certo punto non temere di cambiare strada, che si parli ad esempio di quello che pubblichi sui social attraverso questo brand, magari se il brand non ha il tuo nome in questo caso naturalmente, se si parla, che si parli di newsletter o di scrivere dei post all'interno del blog, ecco lascia che il brand possa effettivamente continuare ad enfatizzare quella che è la sua personalità che poi altro non è che il riflesso della personalità di tutte le persone che ci lavorano dentro e naturalmente anche delle persone che il brand ha scelto di servire. Quindi non aver paura di cambiare approccio, non metti a repentaglio la tua credibilità e non metti a repentaglio nemmeno la credibilità del brand ma lo fai crescere naturalmente. Bene, è il momento di rimboccarci le maniche e tornare al lavoro. Prima naturalmente ti invito a lasciarmi un commento qui sotto al video se stai guardando questo video da YouTube o dal sito biz-academy.it slash podcast o di lasciarmi un commento e un feedback dove possibile su Spreaker, Spotify, iTunes o dovunque tu stia ascoltando questa puntata. Noi ci vediamo come sempre alla nuova puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.